Come mai nel nostro paese si lavora così male? Perché è così dura per fotografia e videomaker cercare di far comprendere quale sia il valore del proprio lavoro e portarlo avanti trovandosi dei clienti degni di questo nome? Nel corso di questo video andrò a darvi la mia versione dei fatti sul motivo per cui in Italia è così difficile fare questo lavoro. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale, io sono Cesare e anche oggi parliamo di fotografia e videomaking. In particolare andrò a raccontarvi come mai chi vuole intraprendere questa professione incontra così tante difficoltà spesso immotivate. Se state sentendo il rumore delle tubature è tutto perfettamente normale, prima di proseguire io vi ricordo che se argomenti come questo vi interessano potete cliccare il bottone iscriviti attivando anche la campanella per non perdere le notifiche, lasciate anche un like a questo video, a voi non costa nulla, per me invece è oro. Molto bene, addentriamoci nella disamina socioculturale che è oggetto di questo video e io lo voglio fare introducendovi l'argomento in maniera molto soft e raccomandandovi la visione di un film. Per chi non lo conoscesse il film è Il ragazzo di campagna, un film del 1984, quindi è un film vecchio. Se avete un'età simile alla mia sicuramente l'avrete già visto, se non l'avete già visto io vi consiglio di andarlo a vedere perché oltre a essere un film bellissimo contiene moltissime scomode verità. Ora senza fare spoiler ma senza neanche preoccuparmi di farne perché insomma è un film uscito diversi anni fa quindi non devo certo trattenermi dal parlarne liberamente. Fondamentalmente nel film vediamo la storia di questo ragazzo di campagna che si trasferisce in città con tutta una serie di equivoci e di incomprensioni molto molto divertenti. Epica la scena in cui si presenta in città a bordo del suo trattore e viene fermato dalla polizia perché non puoi andare in giro col trattore in città, quindi tutta una serie di cose di questo tipo. Voi direte cosa c'entra questo col mestiere di fotografo? C'entra perché non dobbiamo dimenticarci che l'Italia è quella ragazzi. Quindi nel momento in cui noi andiamo a svolgere la nostra professione di fotografo videomaker dobbiamo sempre ricordarci quali sono le nostre radici. Le nostre radici sono quelle. Noi siamo un popolo formato da persone che non si fanno il problema, che vanno in piazza del Duomo col trattore perché non ci pensano. Quindi siamo un popolo fondamentalmente, non voglio dire ignorante perché poi ignorante suona brutto, siamo un popolo ineducato, siamo primi di un'educazione. Questo per colpa un po' nostra, un po' del governo. Io sono assolutamente favorevole a spalare quanta più cattiveria possibile sulla nostra classe dirigente perché la reputo assolutamente indegna, però è 50-50. La colpa è anche un po' nostra perché nel momento in cui non veniamo educati a forza non facciamo nemmeno lo sforzo di educarci da soli. Cosa che mi rendo conto viene difficile perché il primo boccone te lo deve dare qualcuno se no non sai neanche che c'è un piatto di minestra. Poi puoi continuare a mangiare da solo, ma se ti tolgono il primo boccone brancoli completamente nel buio. Il punto qual è? Nel momento in cui noi prendiamo un cliente, è possibile che sia un cliente con un PhD che vuole una fotografia per LinkedIn? È possibile, succede una volta nella vita, ma è molto più probabile invece che sia più simile al nostro ragazzo di campagna. Quindi una persona semplice, una persona che magari una volta lavorava nei campi, o attenzione con questo io non voglio assolutamente disprezzare il mestiere di chi lavora nei campi. È un mestiere rispettabilissimo e anzi io sono in parte invidioso perché fanno una vita più sana della mia. Stanno all'aperto, si svegliano presto, lavorano, fanno un lavoro fisico che fa bene, dà soddisfazione e poi un bel momento staccano e se ne vanno a farsi i sacrosanti cavoli loro, cosa che a chi lavora in città non è più consentito ormai. Quindi lo dico con invidia, non con disprezzo assolutamente. Ciò non di meno, molto spesso ci capiterà di prendere dei clienti che vengono quasi direttamente dai campi. E quindi questo che cosa significa? Significa che sono persone spicce, rudi, sbrigative e questo come si traduce nel rapporto con un fotografo o un videomaker? Si traduce immediatamente con il fatto che verremo percepiti come persone che non lavorano, perché se non abbiamo i calli della vanga sulle mani già siamo persone che non lavorano. Ora, la mia fotocamera anche se rigata i calli non li lascia e quindi automaticamente veniamo percepiti come gente che fa un lavoro un po' così, un po' frivolo. D'altronde io me ne rendo conto, uno che lavora nei campi automaticamente pensa il mio lavoro è più duro di quello di un fotografo. È vero, è vero, è più duro. Non è detto che sia migliore, non è detto che si voglia meno fatica, però dal punto di vista fisico è sicuramente un lavoro più duro. Quindi veniamo immediatamente percepiti come gente che ha fatto la scelta di non lavorare. Io questo posso anche capirlo, perché quando ho intrapreso questa professione avevo proprio in mente il fatto di dire io non voglio lavorare. Poi ho scoperto che non funziona così e mi è anche piaciuto, quindi tutto regolare. Quest'idea però è molto difficile da togliere ai nostri clienti. Ora attenzione, con questo non voglio dire che noi andiamo a fotografare il cavolo rapa e quindi il nostro unico cliente possibile è un contadino, un agricoltore, un allevatore. No, non sto dicendo questo. Sto dicendo che il retaggio culturale della stragrande maggioranza dei nostri clienti, compresi sposi e spose, è quello lì. Quindi quando noi prendiamo un cliente, quando andiamo a realizzare un lavoro per un cliente in Italia, il retaggio culturale è più probabile che sia quello piuttosto che un retaggio culturale di altro tipo. È più probabile che sia quello e quindi ci troviamo di fronte a persone che hanno di noi la percezione di un professionista che lavora poco, di un professionista che ha fatto una scelta di vita, di dire io faccio un po' l'artista quindi lavoro meno di te. In realtà noi sappiamo che non è così, ma loro non lo sanno. Per cui innanzitutto veniamo percepiti in questo modo. In secondo luogo non c'è la minima educazione alla cultura dell'immagine, per cui il nostro cliente non capisce il valore di quello che gli stiamo proponendo. Questo succede a tutti i livelli. Anch'io quando vado in un centro estetico non mi rendo conto della differenza tra un manipolo di qualità e un manipolo non di qualità. Giusto per chi non lo sapesse, quando vai in un centro estetico e ti fanno magari un trattamento, io ho la schiena massacrata perché a forza di portare luci, macchine fotografiche, pesi, tre piedi, ho la schiena massacrata. Quindi nel momento in cui vai in un centro estetico ti fanno magari un trattamento con una sorta di pistole fantascientifiche con una punta di metallo che ti spara degli ultrasuoni o delle onde d'urto nella parte lesionata. Ecco, io non ho la minima competenza per rendermi conto se stanno usando un manipolo cinese o un manipolo tedesco. Quindi non capisco la differenza tra quelle due cose lì perché non sono educato a capire qual è la differenza tra un macchinario di qualità e un macchinario non di qualità. Parimenti quando io vado in officina dal mio amico Luca di 9000 giri, che fra l'altro saluto come sempre, io non capisco la differenza tra un pezzo di qualità e un pezzo non di qualità. Alle volte capita che sia lui a dirmi guarda questa è una componente cinese che però funziona benissimo e certe altre volte invece mi segnala guarda questo qui è un pezzo tedesco sulla carta funziona benissimo proprio crea queste problematiche. Cioè io non lo so, non sono educato a saperlo, posso essere curioso, posso interessarmi e poi una volta che me l'hai detto me lo ricordo. Però deve partire da un retaggio culturale che è già differente, che è quello di essere curiosi e di voler capire. Se guardate il film ragazzo di campagna ce ne vuole prima che lui cominci a capire, a entrare in determinate dinamiche perché comunque, e poi alla fine se ci fate caso, mega spoiler, alla fine lui ritorna in campagna, quindi non gli è piaciuto quello che ha visto. Il messaggio del film alla fine è questo, che è lo stesso del gatto pardo, cioè le cose non devono mai cambiare in questo paese, devono sempre rimanere come sono perché noi siamo pigri, fondamentalmente questa è la roba. Noi siamo un popolo pigro e quindi non abbiamo voglia di fare quella fatica per capire le cose. Questo fondamentalmente è il motivo per cui poi si lavora male, perché poi ci arriva un cliente che non ha la minima cultura dell'immagine, che ci dice che vuole un lavoro fatto in una certa maniera con un logo mandato su whatsapp, con una foto mandata su whatsapp e magari la vuole stampata grossa così, e noi ci troviamo a dirgli guarda non posso lavorare in questo modo perché non è così che funziona, perché se tu me la mandi su whatsapp non ha la qualità per essere stampata, perché se tu mi mandi il logo in jpeg non va bene, a me serve il vettoriale. Loro non capendo niente di tutto questo hanno l'impressione che noi gli stiamo dicendo guarda io non posso farti il buco nel campo con la pala, mi serve almeno una ruspa e loro pensano guarda questo qua che vuole la ruspa. Cioè è questo il problema, capito? Noi non riusciamo a comunicare bene questa cosa perché loro non lo capiscono, perché loro sono rimasti a io ti do una pala, tu mi fai una buca e non è esattamente così. Cioè a livello tecnico io ti posso fare la buca con la pala, certo, però mi stai facendo lavorare male e non viene bene come la vorresti tu. Ora io immagino che tra chi mi sta ascoltando ci siano più fotografi che agricoltori, quindi smetto di parlare di pale che è un argomento che non padroneggio, magari ci sono altri strumenti per fare buche e io neanche lo so, quindi l'ignoranza c'è da ambo i lati. L'importante è cercare di instillare un po' di curiosità e un po' di interesse nei nostri clienti in maniera tale da cercare di fargliela capire questa cosa. Perché io ho diversi clienti che nonostante non sono agricoltori, però nonostante il retaggio culturale sia quello, quindi sono un po' decoccio, non ne vogliono sapere di queste cose, però man mano che se le sentono ripetere cominciano a dire ah cacchio ok, questo qui vuole il vettoriale, se no poi rompe le scatole, allora mi procurano il vettoriale. Oppure foto su whatsapp, ah questo qui rompe le scatole, si mandiamo la foto su whatsapp, mandiamogliela con i transfer, facciamo sto sforzo. Cioè si possono educare le persone. Proprio come quando io vado a trovare mio zio in campagna, mio zio ha la ruspa in campagna e mio zio mi ha fatto vedere come si guida la ruspa. Ovviamente io non so guidare la ruspa, non sono bravo. Cioè mio zio la guida tranquillamente perché la usa. Io quando mi ha fatto salire mi ha detto guarda con una leva ti sposti avanti, con una leva ti sposti laterale, con l'altra leva fai un'altra cosa. Io non sono capace, sono impedito, quindi ho dovuto imparare. È una cosa che si impara. La prima volta mi ha messo sulla ruspa e mi ha detto fammi quella manovra lì dai dai vieni vieni. Dico porca miseria, ma io ci passo al pelo. Cioè mi ha fatto fare una manovra dove avevo tanto così di spazio su tutti e due i lati e ho dovuto passare in mezzo a due cose. Dico zio apprezzo la fiducia, però mi hai fatto sudare. Il punto però qual è? Se affronti la cosa con curiosità, con interesse, ti metti lì e cerchi di capire come funziona, la fai quella manovra lì. Noi dobbiamo cercare di rendere partecipe il nostro cliente in maniera tale da fargli capire che quella roba lì la stiamo facendo per lui, che noi gli stiamo dicendo guarda a me serve uno strumento migliore per farti questo lavoro perché se no viene meno bene. Non è che non voglio lavorare, è che te lo devo fare seguendo delle regole. Anche tu non è che semini buttando i semi dalla finestra, cioè tu devi andare nel tuo campo e fare un percorso per seminare in un certo modo. Non è che lo fai a caso, non è che prendi il sacco quei semi e lo lasci in mezzo al campo, capito? Adesso questi sono esempi un po' alla Carlona, però dobbiamo cercare di far capire al nostro cliente quale che sia il suo ambito. Adesso io ho fatto l'esempio del ragazzo di campagna, quindi vi faccio un sacco di metafore buccoliche, ma il punto è dobbiamo cercare di fargli capire qual è il modo corretto di lavorare. Ci sono molti clienti che un po' lo capiscono, un po' per sfinimento cominciano a darci retta. Ce ne sono altri purtroppo con cui non c'è verso e vi faccio questo video proprio per scaricare la frustrazione perché mi sono arrivate delle immagini proprio questa settimana, mi sono arrivate delle immagini per un manifesto che dovevo fare per una maratona. Il copione è sempre lo stesso, ti arriva da fare un lavoro, tu devi impaginare una locandina e lì va bene, tu fai le tue grafiche, metti titoli, font, cose carine, arzigogoli grafici, fin lì tutto bene, io lavoro in vettoriale, lavoro bene pulito, tiro fuori un pdf grosso per la stampa, faccio esattamente quello che voglio e quello che il cliente mi ha chiesto, anche se il cliente non me l'ha chiesto a livello tecnico, mi ha detto voglio un manifesto, io te lo faccio a livello tecnico, poi però cominciano i problemi perché comincia a mandarti una foto su whatsapp e ti dice guarda questa la voglio grande sul manifesto 70%, porco cane, una foto piccola così 70%, questa non va bene, questa sgrana. E lì che cosa fai? Chiedi al cliente guarda che questa foto non va bene, guarda che la qualità non è sufficiente per andare in stampa, sì è vero che la distanza di osservazione un pochettino attenua il problema perché se è un 70% vuol dire che lo devo guardare da almeno due metri, quindi me ne rendo conto di meno che è sgranato, però stiamo partendo male, stiamo partendo con un'immagine mandata su whatsapp piccola in sci, te la devo fare gigante, non va bene, niente da fare, l'immagine è quella, è stata fornita da un cliente del cliente quindi non c'è verso, l'immagine è quella. Ragazzi che si fa? Ti tappi il naso e lo fai lo stesso perché a livello tecnico tu lo puoi fare e tenete conto che in questa fase della vita quantomeno a me non va bene perdere un cliente perché il cliente percepisce che io non ho voglia di lavorare, questo lo dico anche in parziale risposta a qualche commento che mi è arrivato, io capisco perfettamente che ci sia un po' di stizza da parte di chi lavora in questo ambiente perché molti mi hanno detto eh un cliente così lo mandi a quel paese, in parte condivido perché sicuramente ti viene su quella roba lì, cioè ti devi trattenere e dici calma, il punto però qual è? Io non sono più disposto in questa fase della mia vita non sono disposto a rinunciare ai soldi che un cliente mi dà solo perché quel cliente è ignorante, non sono disposto a farlo e allora che cosa succede? Tu mi dai una foto troppo piccola, un logo troppo piccolo, un logo in png e mi dici fammelo enorme? Io te lo dico una volta, guarda questo non è il modo corretto di lavorare, io ho bisogno di un'immagine in alta risoluzione oppure di un file vettoriale per il logo, te lo dico una volta perché te lo spiego, se tu non me lo dai in stampa non viene bene, per iscritto, se il cliente mi risponde abbiamo solo questo vai avanti così, benissimo perché io i soldi di quella commissione li voglio, io te l'ho scritto che non andava bene, io ti faccio il lavoro perché a livello tecnico sono in grado di fartelo, non sono così schizzinoso che se non ho il vettoriale non lavoro, io te lo faccio, mi paghi, se c'è il minimo problema, carta canta, io te l'avevo detto, è colpa tua. Questo ve lo dico, parlo ai fotografi ovviamente non parlo ai clienti che non hanno avuto la capacità di intuire che il fotografo stava cercando di aiutare nel chiedere file vettoriali o immagini in alta risoluzione, parlo ai fotografi, ai designer. Nel momento in cui ci troviamo di fronte a clienti come questi, parere mio, secondo me è meglio trattarli in questo modo e farci pagare piuttosto che perderli. Vi spiego perché, perché sono clienti persi in ogni caso, cioè se non vogliono capire, se sono decoccio, se credono che non vogliamo fare il lavoro per pigrizia nostra, a quel punto la cosa migliore che possiamo fare è prenderci i loro soldi, prenderci i loro soldi e fargli il lavoro che si meritano, perché se non sono stati in grado di fornirci le risorse, si meritano esattamente questo, si meritano che noi prendiamo quello che ci hanno dato e glielo mettiamo nel calderone così com'è. Ovviamente devo fare un'aggiunta, esistono dei casi, quindi magari cliente appena preso, cliente che non capisce, cliente che non lo sa, a cui noi possiamo anche fare un regalo. Spesso e volentieri a me capita di andare a vettorializzare dei loghi che mi arrivano in PNG. Ovviamente se c'è il grifone rampante di Grifondoro con dietro il castello di Hogwarts con tutte le sfumature palle varie, no, non esiste. Quello è un lavoro che o me lo paghi o non te lo faccio. Però mi è capitato di recente, per esempio, un logo che fra l'altro orrendo, un logo che praticamente era uno stemma con bandiera italiana, qui ragazzi sono tre quadrati. E con scritto a cerchio intorno alla bandiera italiana c'era una frase, non mi ricordo neanche più, con un font che poteva essere un curie o una roba del genere. Io ho usato il curie, cioè non mi interessa neanche che fonte era l'originale. Si vedeva così male che io glielo ho rifatto, cioè sono tre quadrati, tre colori diversi, con una scritta a cerchio intorno. Ci ho messo 90 secondi a rifarglielo. Questa è una cosa che ha un valore, perché comunque noi facciamo vedere al nostro cliente, per quanto sia decoccio, lo vede anche lui, lo facciamo vedere, vedi il tuo logo piccolo così faceva schifo. Io te l'ho rifatto, adesso è bello grande. Non è esattamente identico, ci saranno delle micro differenze, perché per quanto io sia un drago con illustrator non sarà uguale, preciso, identico, sputato. Però ti faccio vedere che c'è un miglioramento. Questa è una cosa che possiamo fare per cercare di portare il cliente sulla buona strada e capire che nel momento in cui gli proponiamo qualcosa è perché abbiamo una cultura dell'immagine superiore alla sua. È proprio come se lui ci dicesse, guarda, questo è il momento sbagliato per tirare sulle rape. Devi aspettare ancora due settimane perché adesso non sono ancora pronte. È la stessa cosa. Purtroppo noi abbiamo la fatica supplementare di farglielo capire e gli smartphone non ci aiutano, ci remano contro, perché la gente è convinta, siccome ha uno smartphone, siccome fruisce delle immagini, è convinta di capirne. Proprio come se io fossi convinto di capirne di odontoiatria soltanto perché sono andato a farmi fare la pulizia dei denti e allora dico, ho capito tutto perché mi hanno fatto la pulizia dei denti, potrei farla anch'io. Non c'è nulla di più sbagliato. Purtroppo, per fortuna, le uniche frecce che abbiamo al nostro arco in questa occasione sono la pazienza e la conoscenza. Quindi più noi conosciamo la nostra materia, più la sappiamo argomentare ed esporre al cliente in maniera tale che la capisca, quindi in modo semplice, senza usare paroloni. E però dobbiamo anche avere una santa dose di pazienza perché glielo dobbiamo spiegare e dobbiamo ricordarci che abbiamo a che fare con il ragazzo di campagna, ovvero con uno che sbufferà quando gli diciamo le cose perché dentro di sé non gliela leverà mai nessuno quell'impressione di dire io lavoro come un cane, questo qui non fa niente, in più mi rompe anche le scarpe. Quella non gliela levi. Però se hai pazienza puoi riuscire a far fronte alla cosa e cercare di portare il tuo cliente sulla buona strada. Altrimenti, come detto prima, prendi quello che ti dà, gli fai il lavoro, ti prendi i tuoi soldi, è bene così. Bene amici, a questo punto io vi aspetto come sempre nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate, qual è stato il cliente più difficile con cui avete mai dovuto lavorare? Siete riusciti a portarlo sulla buona strada oppure vi siete arresi e l'avete o abbandonato o gli avete fatto il lavoro fatto male, passatemi il termine. Fatemelo sapere nei commenti, io vi ricordo anche di iscrivervi al canale perché il miglior modo per sostenerlo è completamente gratuito e inoltre non fa male all'ambiente. Vi ricordo anche per chi fosse interessato che è online su Amazon il mio manuale di fotografia di interni, è un librone di 300 e passa pagine in cui vado a mostrarvi diversi esempi di quello che è stato il mio lavoro nel corso di questi anni con la spiegazione abbastanza dettagliata, dei procedimenti che portano alla realizzazione di una buona fotografia di interni, sono concetti applicabili a diversi generi fotografici come l'architettura, il paesaggio, è un libro abbastanza grande e dal prezzo non indifferente perché mi rendo conto che costa tanto. Io sono convinto che il modo migliore per apprendere sia osservare e quindi è un libro con tante immagini, è un libro dove vi faccio vedere i miei lavori e dove vi faccio vedere come ho ragionato per arrivare a determinati risultati. Quindi a livello cartaceo molto più che qui su YouTube secondo me ho la possibilità di portarvi dentro al mio lavoro e farvi percepire come ho visto le cose nel momento in cui le stavo realizzando. È una lettura secondo me che può avere una rilevanza soprattutto se, come molti di voi mi stanno dicendo, se volete intraprendere la carriera di fotografo di interni per agenzie, per strutture alberghiere o per qualsiasi altro tipo di committente. Bene amici siamo arrivati alla fine, io vi ringrazio di aver trascorso un po' del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video.